Dopo Totti e Hilary un'altra coppia famosa nel mondo del calcio è scoppiata L'addio inaspettato dopo anni di amore. Decisione dolorosa, dichiara lui su Instagram. Chiediamo rispetto ed empatia, sono stati anni meravigliosi Insieme hanno quattro figli, fani in lacrime sperano che tornino insieme Gli ultimi due sono stati gli anni dell'addio per moltissime coppie famose Da Francesco Totti e Hilary Blasi a Chiara Ferragni e Fedez, passando per Tiziano Ferro e Victor Allen E come dimenticare la notizia della fine dell'amore tra Melissa Sata e il tennista Matteo Berrettini I fan adesso dovranno mandar giù un altro triste addio che riguarda una coppia molto famosa nel mondo del calcio Ci siamo amati e aiutati moltissimo, dichiara lui sui social, rendendo ufficiale la separazione con la moglie Alvaro Morata e Alice Campello si lasciano, cosa è accaduto davvero? La coppia famosissima di cui vi stiamo parlando è quella formata da Alvaro Morata e Alice Campello I due avevano quattro figli, Alessandro, Edoardo, Leonardo e Bella Ad annunciarlo è stato proprio il calciatore spagnolo che gioca nel Milan con una storia su Instagram Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade La notizia ha lasciato allibiti e incredoli perfino gli esperti di gossip più famosi del web Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco, nella quale ci siamo amati e aiutati moltissimo, ha scritto il campione Parole di dolore quelle di Morata, alle quali sono seguite quelle dell'ormai ex moglie Alice Campello Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita Punto dietro all'addio tra Alvaro Morata e Alice Campello non c'è una terza persona A specificarlo è proprio lei su Instagram, mettendo a taceri definitivamente i rumors, ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi Punto guardando i social di entrambi, nessuno avrebbe mai pensato a una crisi nell'aria Nelle ultime settimane infatti, hanno continuato a pubblicare foto insieme Tutto ciò che si è visto fino ad ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è la verità In nessun momento abbiamo finto nulla e l'amore non va via da un giorno all'altro ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni Queste le parole di Alice Campello su Instagram, raccontando la fine del bellissimo matrimonio Sono stati anni meravigliosi, aggiunge Morata. E la conseguenza sono stati i nostri quattro figli, senza dubbio la cosa migliore che abbiamo fatto insieme